Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 166esima puntata del podcast di Marcos Box. La prima puntata del 2024, nonché la prima puntata sperimentale con video, perché come potete vedere se mi seguite da YouTube, c'è il video, c'è la ripresa di questo bel faccione che ho io, e dello schermo del computer, in modo tale da, diciamo così, da annoiarvi meno quando visualizzate la puntata su YouTube, e in modo tale da vedere anche gli screenshot, perché visto, quando faccio le puntate, registro le puntate del podcast, spesso vi parlo di nuova funzionalità, nuovo design e quant'altro, poi vi rimando sempre al sito, e sembra un po' una cosa, un forzatura, però è così. Se mi guardate su YouTube, vedete anche quello che vi sto dicendo. Sto gesticolando troppo, lo so, sono gesticolatore, sono italiano come tutti quanti voi. Non fate caso a tutto il bordello che c'è qua dietro, c'è la libreria con le cose di lavoro, che devo, prima o poi, sistemerò, credo, forse mai. Concentratevi sulla parte arancione, da questa parte, da che parte, non lo so, che c'è la tenda, che magari è più rilassante. Vabbè, vabbè, comunque, bando alle ciance, e apriamo la puntata. La prima notizia di questa puntata riguarda una notizia riguardante Apple, che a quanto pare non gli piace tanto Firefox. Che cosa è successo? È successo, ho scoperto questa notizia tramite Reddit. Quando provate ad accedere al sito internet school.apple.com, mediante Firefox, vi viene fuori un messaggio di errore, che vi avvisa che state utilizzando un browser non supportato, qui lo potete vedere. Stai utilizzando un browser non supportato, oppure stai visualizzando questo sito su un dispositivo mobile. Passa a un browser supportato. E quali sono i browser supportati? Della Apple, Chromium, quelli basati su Chromium, quindi Google Chrome, Microsoft Edge, e Safari. Se utilizzate Firefox, mi dispiace, non potete utilizzare il servizio. Il problema è stato segnalato molteplici volte sin dal 2019, ma a quanto pare ad Apple non interessa, quindi non ha intenzione di perdere tempo a supportare Firefox. Evidentemente non hanno abbastanza sviluppatori per poter dedicarsi a fare dei test sulla piattaforma, per testarlo su Firefox. Cioè, non lo so, una notizia del genere mi lascia alquanto sconvolto. Tra parentesi, come vi ne ho fatto notare, da alcuni lettori con alcuni commenti che sono stati postati sul blog, c'è una normativa statunitense di cui vi ho parlato anche, vedete, in questa, anzi, lo scorso 6 dicembre, all'inizio dicembre, ovvero c'è una normativa statunitense che dice che tutti quanti i browser che superano il 2% di market share, secondo le statistiche del sito analytics.uso.gov, devono essere supportati questi browser che superano il 2% dalle amministrazioni pubbliche e di conseguenza anche da chi fa lavoro con le amministrazioni pubbliche statunitense. E, in questo caso, è una piattaforma dedicata alla scuola e, penso, credo, che debba essere supportata al pieno. Quindi sono tecnicamente anche sanzionabili quelle di Apple, però se ne sbattono. Io resto sconvolto da questa notizia perché sapete bene che ultimamente sono diventato ancora di più un Firefox fanboy e vedete che questo cosa mi rattrista. Voi che cosa ne pensate? Perché viene fatto questo? Firefox lo utilizzate? Utilizzate ancora Firefox, vero? Spero di sì per voi perché se non utilizzate Firefox siete delle brutte persone. Ma restiamo in tema Firefox con un'altra notizia o meglio con una video recensione che ho pubblicato sulle pagine del blog nella quale vi spiego con un breve video come è possibile utilizzare l'estensione Firefox Translations quindi l'estensione che Mozilla ha sviluppato grazie al supporto finanziario dell'Unione Europea che consente di avere la traduzione automatica locale delle pagine web quindi senza che i vostri dati passino attraverso i server di Google oppure di Microsoft. Questa estensione è stata recentemente anche integrata all'interno di Firefox quindi sulle ultime versioni di Firefox come potete vedere c'è la possibilità di cliccarci sopra per poter utilizzare la traduzione delle pagine web integrate nel browser. però lato mobile questo non accade perché non accade lato mobile semplicemente perché Mozilla ancora non ha deciso di integrare il codice all'interno di Firefox per Android. C'è però un workaround che vi consente di poter installare questa estensione anche su Firefox per Android ed è di una semplicità disarmante. Si tratta semplicemente di andare mediante Firefox per Android sulla pagina dell'estensione di Firefox Translations attivare la visualizzazione desktop del sito e grazie a quel piccolo trucchetto far credere al portale di Mozilla dedicato agli addons che stiamo navigando da un dispositivo desktop e possiamo installare l'estensione. L'estensione funziona l'ho provata su Firefox per Android sul mio dispositivo e non sbaglia un copo non ci sono problemi di sorta. Quando verrà integrato tutto questo all'interno del browser non si sa perché Mozilla ancora non si sta sbilaggiando al riguardo. Io spero che questa funzionalità arrivi quanto prima all'interno del codice direttamente di fare Firefox per Android magari anche con una interfaccia leggermente rivisitata perché attualmente l'estensione mostra un quadratino con i simboli per la traduzione in basso a destra quindi visivamente diciamo quel pussantino flottante non è tanto simpatico da vedere sarebbe bello magari integrarlo tramite un pussantino nella barra dell'indirizzo o quant'altro forse per questo forse stanno ancora lavorando per poter raggiungere una cosa del genere all'interno del codice ma chi lo sa comunque se utilizzate Firefox per Android e volete il traduttore potete farlo potete installarlo grazie alla guida che ho postato quindi fatemelo sapere se vi piace se utilizzate anche voi Firefox su Android e adesso cambiamo decisamente il registro e passiamo ai desktop environment con una notizia riguardante KDE Plasma 6 perché è disponibile finalmente la Relays Candidate 1 di KDE Plasma 6 che si porta anche l'aggiornamento a KDE Frameworks 6 e KDE Gear 24.02 come per le versioni alfa e beta si tratta di una anteprima destinata agli sviluppatori beta test quindi se volete qualcosa di stabile non installate continuate a rimanere su ramo stabile di KDE Plasma e lasciate l'utilizzo di questa versione sperimentale a chi magari sa come risolve alcuni piccoli intoppi che potrebbero nascere dall'utilizzo di KDE Plasma 6 Relays Candidate se però siete in grado di mettere mano e siete in grado di anche di segnalare bug di contribuire in questa maniera al miglioramento di KDE Plasma in modo tale da avere una release di KDE Plasma quanto più stabile possibile il giorno del riace non esitate a installarla potete utilizzare KDE Neon nel ramo unstable dicevo non esitate a installarla e a provarla e a testarla e aiutateci a rendere KDE Plasma stabile al punto giusto in tempo per la data di rilascio che avverrà fra una cinquantina di giorni e parlando adesso di un altro desktop environment parliamo di Cosmic Day che te sei attivata tu vedete io delle volte faccio le registrazioni nel pod se mi devo interromere perché si attiva Alexa che non ho capito perché si è attivata in questo caso oh calmati Alexa stop stava sbiliando sottovoce qualche cosa vabbè dicevo parliamo di Cosmic Day parliamo del desktop environment scritto in Rust che vedremo sulle prossime versioni di System76 perché ci sono state due notizie riguardanti a questo nuovo desktop environment la prima è un'anteprima passatemi il termine passatemi il gioco di parole dei due temi principali la variante Dark e la variante Light di Cosmic Day qui potete ammirare la variante Dark e potete ammirare alcune applicazioni come il file manager le impostazioni di sistema l'editor di testo e non mi ricordo che cos'era quella altra cosa vado subito a leggere dove sta dove sta dove sta dove sta e ah e l'emulatore del Terminale non si va prendendo un emulatore del Terminale effettivamente ecco adesso qua magari lo vedete bene che dire i due temi onestamente non mi paiono molto molto carini o meglio li trovo un pochettino troppo contrastati vedete questo celestino qua azzurrino sul cruso nero mi fa troppo effetto neon non lo so non li trovo tanto gradevoli per l'occhio secondo me a lungo andare stancato magari su questo tema dark con questa combinazione di colori con questa palette di colori predefinita degli accenti potrebbe essere utile su che ne so se vi trovate su uno schermo OLED però su uno schermo normale non lo so a me mi da un po' fastidio quelli di Cosmic anzi meglio quelli di Pop OS non sono mai stati bravi a scegliere le palette colori perché anche la versione attuale di Pop OS anche il tema attuale di Pop OS è un pochettino brutta regola da vedersi però c'è ampio spaggine di meronamento comunque c'è la possibilità di scegliere anche gli accenti vedremo dal vivo giocando con gli accenti se la situazione è migliore comunque a me non mi pare tanto carina e l'altra novità l'altra notizia riguardante Cosmic Day è che l'Alpha la versione Alpha di Cosmic Day arriverà entro fine marzo 2024 quindi l'annuncio è stato fatto pubblicamente da System76 se tutto andrà quindi se tutto andrà per il verso giusto arriverà la versione Alpha entro la fine di marzo una volta poi compiuto questo step si potrà lavorare per rilasciare la nuova versione della distro basata su Ubuntu 24.04 durante l'estate quindi siamo lì mancano ormai pochi mesi per poter finalmente mettere le mani su Cosmic Day io voglio provare questo ambiente desktop perché sono fiducioso che una riscrittura da zero fatta come si deve di un desktop environment sfruttando le tecnologie moderne possa dare i suoi frutti possa produrre qualcosa di buono a parte discutibile gusto estetico degli sviluppatori di Cosmic Day quali sono le novità che ci sono state postate nel post da parte degli sviluppatori di Cosmic Day la prima riguarda il terminale che è dotato di rendering bidirezionale come potete leggere quindi da essa sinistra sinistra temi dextro temi di sintassi e rendering GPU quindi il mutatore di terminale promette bene le altre novità adesso è che Cosmic Day è disponibile anche su NixOS quindi un'altra distribuzione che ha degli sviluppatori molto molto bravi il tool dello screenshot è in fase di lavorazione c'è in fase di lavorazione anche l'applet per il tagging quindi che potete vedere qui con tutte le impostazioni che dice più Cosmic App e Applet Icons gli sviluppatori stanno 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 anche lavorando provando alcuni design per le icone per le nuove applicazioni stanno lavorando anche al long screen display e vabbè insomma andatevi a leggere l'articolo che trovate pubblicato sulle pagine del blog dove ci sono tutti quanti gli screenshot nel caso non state guardando la video puntata fatemi sapere poi che cosa ne pensate di Cosmic Text se vi piace se lo trovate un desktop environment utile bello moderno lasciate un commento e restando poi sempre in tema Ubuntu perché vi ho parlato che la prossima versione di Pop S sarà basata ovviamente sulla prossima GTS di Ubuntu la 24.04 c'è una notizia che è proprio arrivata a Celserino non era stata ben letta dalla parte dei blogger che si occupano di raccontare notizie riguardanti il mondo del Linux e dell'open source e del software libero perché all'inizio era passato un po' in sordina però c'è una bomba lanciata da Mark Shutterworth che ha annunciato che Ubuntu 24.04 LTS nome in codice Nobel Numbat sarà una distribuzione con supporto per 12 anni quindi con supporto esteso per 12 anni sino al 2036 sì avete capito bene 12 anni di aggiornamenti non solo dei componenti principali quindi cucuzione tutto il pacco software e sempre stando alle dichiarazioni di Mark anche alcune versioni precedenti potranno ovviamente sempre che TSE beneficeranno di questo supporto esteso per poter avere il supporto esteso i 12 anni però bisogna iscriversi a Ubuntu Pro che però fortunatamente è gratuito per l'utilizzo personale almeno fino adesso è gratuito per l'utilizzo personale quindi di fatto lo potete utilizzare nella vostra piccola azienda oppure se ci lavorate e siete un'azienda da un solo uomo comunque potete utilizzare gratuitamente e quindi avere un supporto per 12 anni 12 anni è un'eternità per una distribuzione Linux è un impegno grosso quelli che si stanno assumendo quelli di Canonical chissà se ripagherà in termini di quote di adozione di Ubuntu perché manco RedDat se non ricordo no RedDat mi sembra pure una cosa simile che offre con il supporto esteso a pagamento quindi è una grande cosa per Canonical un grande impegno bravo Mark che lancia questa questa bomba in un momento come questo c'è poco interesse diciamo così per Ubuntu perché viene criticata continuamente Ubuntu lo sapete per per alcune delle sue scelte come la scelta di di essere una distro votata agli snap e quant'altro è anche una distro che è votata alla rottura con le altre con le altre comuni perché però la gente sotterrita alla fine è sempre sempre Ubuntu installa infine chiudendo la parte dedicata a questi aggioramenti alle distribuzioni è stata rilasciata anche Linux Mint 21.3 nome in codice Virginia l'ultima release di Linux Mint basata su .22.04 GTS la principale novità di questa nuova versione di Linux Mint è che questa distribuzione è questa versione avrà anzi Cinnamon 6.0 che introduce il supporto sperimentale a Wigand è presente una sessione sperimentale a login che potete utilizzare per provare per provare Cinnamon con Wigand l'altra novità riguarda il supporto per le azioni al file manager Nemo realizzabili sia dagli utenti quindi installabili a modi spezie aggiornamenti per l'app get sonore quello energetico infine il supporto per le immagini Avif infine c'è anche un'altra cosa che non avevo non ho scritto nell'articolo per una cosa da citare vediamo se si apre riguarda io la faccio vedere che finalmente dove cavolo sta sotto sotto eccolo qua che 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 dove sta dove sta dove sta dove sta vabbè praticamente che hanno ripristinato finalmente il supporto a eccolo qua a Secure Boot perché con le vecchie versioni era stato interrotto per alcuni bug problemi di compatibilità adesso finalmente hanno riprodotto il supporto completo a Secure Boot se non ricordo mai durante l'installazione vi fa fare una cosina al primo avvio che per abilitare il Secure Boot però è una cosa che è una procedura tutta automatica e meno male che l'hanno rientrodotto perché molte persone utilizzano Secure Boot magari perché hanno i dual boot e quant'altro e concludiamo questa puntata con una notizia che interesserà ad alcuni di voi non è che interesserà a molti di voi riguardante OpenVRT che ha lanciato il suo o meglio sta per rilanciare il suo primo router che cos'è OpenVRT lo conoscete è un firmware che si può installare su diversi router open source e nel 2024 il progetto OpenVRT compie 20 anni e ha deciso per festeggiare quest'anniversario di fare questo grande annuncio sulla mail list del progetto ovvero di quella di lanciare il suo primo router quindi un router completamente compatibile progettato secondo per essere secondo che pubblicità che mi escono questo riscontamente bellissimo e dicevo scusate l'interruzione voi che sentite l'audio soltanto l'audio vi siete persi una pubblicità che mi ha passato su blog altrimenti dicevo che questo router è completamente compatibile con OpenVRT quindi scritto per essere o meglio realizzato per essere completamente compatibile è un progetto di cui la community di OpenVRT ha iniziato a parlare per la prima volta addirittura nel 2017 e finalmente si è concretizzato qui trovate tutte quante le specifiche le specifiche hardware di questo router i SoC è un Mediatek MT7981B con modulo wifi sempre della Mediatek un gigabyte di RAM DDR4 una memory flash da 128 NAND NAND scusate mi stiamo impappinando da 128 MIB megabyte che non so per farse lo sbagliato a copiare il test due porta Ethernet una porta USB 2.0 vabbè andatevele a spucciare tutte quante le specifiche ve l'ho scritto apposta perché se siete nerd di queste cose potete gioire di queste cose la maggior parte di queste cose non ho la capacità tecnica di dire se sono buono o no molti mi hanno detto che sono delle specifiche comunque discrete per questo router a parte alcune critiche che ho letto nei commenti sui vari social dove ho posto le notizie del blog alcuni hanno criticato la presenza di soltanto due porte Ethernet che si dice che sono un po' pochine altri hanno fatto notare che ormai la maggior parte dei dispositivi ci si connette tramite Wi-Fi non vi so dire se è una cosa buona o una cosa sbagliata questa cosa qui se voi siete più tecnici se ci capite di più fatemi questa cortesia andate a lasciare un commento sotto l'articolo il prezzo di questo dispositivo sarà di circa 100 dollari non verrà venduto direttamente da OpenVRT per ovvi motivi però ci si affiderà a terzi che gestiranno la distribuzione la vendita e poi una parte del ricavato verrà donato a OpenVRT e questo denaro verrà utilizzato per coprire gli spessi di hosting oppure magari organizzare un summit di OpenVRT quindi hanno deciso di gestirlo in questo modo ed è anche hanno fatto a mio avviso bene beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 166esima puntata del podcast di Marcosbox la prima sperimentale in video la prima del 2024 come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali social quindi Facebook X YouTube tutte quante le piattafone di podcasting mi trovate anche col profilo persone su LinkedIn mi trovate su Mastodon mi trovate su Telegram con tre canali il canale principale la community Telegram e il canale Telegram per offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog ho messo anche un simpatico pinguino che potete vedere adesso su la destra cliccandoci da sopra vi si aprirà direttamente la pagina referral per poter acquistare utilizzando il mio codice referral quindi è più semplice da utilizzare infine vi ricordo che se volete supportare il blog potete farlo anche acquistando una VPN magari acquistando NordVPN che è diventato partner del canale quindi nella scorsa puntata già abbiamo avuto una piccola sponsorizzazione prossimamente vedrete alcuni articoli di approfondimento dedicati a NordVPN con questo è tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana nella prossima puntata del podcast di Marcosbox oppure ci rivediamo ciao ciao